Buongiorno a tutti, cercherò di essere brevissimo perché capisco che ormai è tardi, sono l'ultimo relatore, quindi cercherò di essere molto sintetico. È uno sforzo, allora relativamente alla mia prima parte tecnica in cui avevo pensato due valutazioni da tecnico, da agronomo come sono relativamente ad un tema in particolare che è quello del paesaggio agrario. Lo troverete anche nei volumi, in qualche modo ho collaborato e ho più volte discusso con il gruppo di lavoro, discusso in maniera positiva con il gruppo di lavoro che si è occupato di paesaggio agrario. Ovviamente io vi porto, se volete, quella che è la mia visione da tecnico, il paesaggio agrario, io lo vedo non solo come un oggetto statico, magari dico delle banalità, sapete anche voi il paesaggio agrario come effetto di una lenta stratificazione di un'attività agricola su di un primitivo paesaggio naturale. E quindi dal momento in cui sono arrivato al parco si era detto, una delle cose che mi è stata affidata è stata quella di cercare di capire come fare a valorizzare il paesaggio agrario, ma come fare nel senso che ci troviamo di fronte ad una cosa che di fatto non è natura perché c'è di mezzo l'uomo che in qualche modo va ad intervenire su quello che era l'originaria vegetazione naturale. E' agricoltura questa? Su questo ci metto un po' un punto di domanda perché siamo in montagna e non lo so, si è agricoltura, tutti gli effetti è agricoltura, ma tante volte viene un po' snobbata diciamo negli ambienti intellettuali dell'agricoltura perché quello che noi facciamo di agricolo sul nostro territorio alla fine sappiamo benissimo che dal punto di vista della resa economica parametrato con i dati di oggi è ben poca cosa rispetto alla nostra diciamo muscolare regione che produce la principale regione agricola d'Italia ma non in Val Camonica, dal lago di Seu in giù dove esiste un sistema agricolo completamente diverso dal nostro. Allora cosa fare con il paesaggio agrario? La linea d'azioni secondo noi negli anni sono stati riconoscere un valore, il paesaggio agrario come valore, attraverso gli operatori, cioè cercando di incentivare e motivare quegli operatori che ancora oggi in qualche modo se ne prendono cura nonostante le contraddizioni economiche del momento che sono assolutamente sotto gli occhi di tutti e quello che voi vedete nella diapositiva sopra è il tratto medio, basta prendere la macchina e andare nel parco dell'Adamello nelle zone di versante e quello che noi possiamo dire come elemento essenziale del paesaggio agrario del parco dell'Adamello di versante e sono queste situazioni dove c'è questo signore che falcia l'erba su questo pezzettino di prato di mille metri quadrati che praticamente tra 5 o 6 anni sarà completamente invaso dai rovi del suo vicino che ormai non la falcia più da 30 anni e quindi siamo di fronte ad una situazione di questo tipo qui evitando evidentemente dare un incentivo, dare un riconoscimento, dare un merito a chi ancora oggi trova motivo di agire in questa situazione evitando evidentemente di rianimare un paesaggio legato a delle pratiche che dobbiamo dircelo desuete perché è un paesaggio nato in un sistema economico che non è il nostro e quindi di fatto legato a delle pratiche che purtroppo al giorno d'oggi non trovano una loro logica o trovano a fatica una loro logica economica e purtroppo devo dire fatichiamo anche a trovare gli strumenti per cercare di compensare, di mitigare, di riconoscere una differenza diciamo così di valore che pure ci servirebbe per dare valore a questo paesaggio agrario nel tempo la sintesi è al parco dell'Adamello abbiamo cercato di sviluppare delle azioni di tutela, di valorizzazione la tutela era già scritta nelle norme del piano del parco, prima estensione, in un articolo che diceva che il proprietario dei terrazzamenti deve mantenere i muri a secco in buono stato di manutenzione, questo deve mantenere, io ho appena arrivato al parco dell'Adamello questa parola deve mantenere a me, scusate da agronomo, faceva venire la pelle d'oca alta 10 centimetri perché mi dicevo ma se questo per una motivazione economica non ce la fa a mantenerla, il parco cosa fa? gli fa la multa? Questo era il punto di domanda e quindi abbiamo cercato di trasformare questa diciamo esigenza di questa imposizione di tutela in una tentativo di valorizzazione non vi dico i numeri da circo, il direttore Furlanetto lo sa che ci siamo inventati negli ultimi otto anni per andare a raschiare il fondo del barile di tutti i sacrosanti programmi di intervento che ci possono essere andando a battere a tappeto tutti i bandi possibili e immaginabili per riuscire a mettere in piedi una piccolissima, banalissima misura di interventi di piccoli, un piccolo incentivo al proprietario per il rifacimento dei muri a secco abbiamo raschiato il fondo di barile di tutti i finanziamenti possibili e immaginabili non trovandone neanche uno che si adattasse a questo tipo di esigenza ma comunque in qualche modo abbiamo cercato di mettere in piedi un'operazione che nel corso degli anni siamo riusciti a garantire per 6-7 volte come iniziativa di intervento un banalissimo contributo per il recupero dei muri a secco che quantomeno al sesto-settimo programma di intervento mi consente di poter girare e dire per certe dimensioni, per certe tipologie di manufatti, certo non per tutto il muro a secco come è sempre stato fatto nel nostro territorio va benissimo e badate che noi paghiamo un contributo abbastanza ridotto e io trovo misurato al termine dei lavori il 20% in più di quello che io ho pagato questo cosa vuol dire? Che il proprietario è talmente contento che bisogna frenarlo perché poi comincia e si mette a rifare muri e continua e va avanti insomma in questo rifacimento particolarità abbiamo cercato di semplificare al massimo gli adempimenti amministrativi adesso è uscita recentemente una modifica di alcune norme ma io mi ricordo che nel 2003 mi ricordo esattamente una discussione davanti a un comandante del corpo forestale dello Stato per il fatto che nel rifacimento, nella manutenzione poi che cos'è manutenzione straordinaria restauro, rifacimento, che cosa è quando è a che fare con un muro a secco, caspita mi ricordo benissimo il proprietario piangere davanti al comandante del corpo forestale dello Stato perché si era permesso di utilizzare lo scavatore per demolire il muro prima di rifarlo quindi il problema era che aveva utilizzato un mezzo meccanico improprio e avrebbe dovuto fare tutto il lavoro a mano e santo cielo. Ecco e non parliamo poi degli adempimenti amministrativi che nella prima fase erano necessari adesso un pochino semplificati perché chiaramente sappiamo tutti che poi la fantasia diciamo così dei rurali è sempre molto è sempre molto abbondante tuttavia quando noi obblighiamo le persone a investire denaro nel mettere a punto pratiche edilizie amministrative autorizzazioni pareri e quant'altro per un recupero di un piccolissimo manufatto di campagna che spesso e volentieri viene fatto esattamente nelle condizioni come prima ma è meglio che li spenda per fare il muro quei soldi lì piuttosto che in carte che poi tutti noi dobbiamo guardare e in qualche modo ci ingolfano anche l'attività amministrativa e magari ci tolgono attenzione invece a quel progetto importante che magari meritava quel po' di attenzione in più per poter essere seguito e per poter essere accompagnato. Quindi questa negli anni comunque abbiamo cercato di sviluppare queste azioni diciamo così sul paesaggio agrario azioni diffuse che poi grazie anche alla lungimiranza del direttore abbiamo esteso alla rete natura di Valle Camonica e quindi a tutte le aree protette di Valle Camonica perché ci sembrava che questo tipo di incentivo fosse importante per rimettere in circolo all'interno del nostro territorio l'idea che fare muri a secco oggi ancora si può. Quindi attenzione alle tecniche tradizionali, corsi di formazione, recuperare semplicità anche per i proprietari, sono manufatti che hanno sempre fatto i contadini senza avere bisogno di grandissime conoscenze. Poi è chiaro che se sopra ci deve passare la strada e se questo manufatto ha delle funzioni diverse evidentemente occorrerà una progettualità di tipo diverso ma nella maggior parte dei casi recuperiamo semplicità, diamo alla gente, rimettiamo attenzione alle persone rispetto a quelli che sono i valori da conservare ma poi diamo semplicità, lasciamo che in qualche modo le persone facciano, imparino, si rimettono in circolazione queste energie. Altre attività, valorizzare il paesaggio agrario passa attraverso una serie di piccoli interventi diffusi sul territorio perché alla fine passa anche attraverso interventi puntuali sicuramente su beni di grande prestigio ma passa anche attraverso tante piccole micro azioni che possono essere svolte sul territorio. Dobbiamo riconoscere un valore a chi fa questo paesaggio quindi ci siamo cercati di inventare insomma nel corso degli anni dei piccoli strumenti che andassero a far vedere che cosa c'era di positivo dal punto di vista paesaggistico e quindi quale fosse l'esternalità positiva, mettiamola così in termini economici, quale fosse l'esternalità positiva prodotta dall'agire inconsapevole in alcuni casi di queste persone in alcuni casi e in qualche modo cercare di dare un riconoscimento rispetto a questa esternalità positiva. Se non parliamo di questo purtroppo stiamo semplicemente chiedendo a qualcuno di curarci il giardino e di farcelo bello ma tra virgolette non gli riconosciamo assolutamente niente. Questo è un po' uno dei problemi. Vado veloce per dire poi si entra nel merito in Valle Camonica anche di progetti singoli in cui si va a lavorare sul paesaggio agrario. Dal mio punto di vista di tecnico non è solo restaurare pezzi più o meno articolati di territorio ma è anche lavorare su una rigenerazione agricola e qui casca l'asino perché la rigenerazione è agricola e quindi non vorrei cadere io nel senso che qui cado io poi perché quando dico casca l'asino poi sono io che cado in qualche modo. Lavorare sulla rigenerazione agricola è chiaro che non è semplice perché significa lavorare su un contesto, su un settore economico che ha le sue problematiche, le sue difficoltà e in una vallata alpina quindi in un contesto che non è quello di pianura ma è un contesto molto più difficile e nell'economia del ventunesimo secolo e quindi è chiaro che gli interventi sul paesaggio agrario, cioè bisognerà trovare a un certo punto un modo per far sì che questo bene paesaggio che viene in qualche modo riportato in luce torni anche all'interno dell'azienda agricola, cioè in qualche modo questo valore qua faccia parte della catena di valore dell'azienda agricola. Queste sono state un pochino le linee guida diciamo così in qualche modo dell'operato del Parco dell'Adamello negli ultimi dieci anni e che si possono spero ritrovare per quanto riguarda la componente paesaggio agrario anche nel lavoro che abbiamo fatto sul paesaggio della Valle Camonica e con questo diciamo il mio intervento tecnico direi che in qualche modo è finito e mi tocca insomma l'onere e l'onore di trarre le conclusioni di questo lavoro visto che il direttore mi ha fatto questo scherzo visto che il direttore mi fa questo scherzo se non per dire che è stato un lavoro molto interessante molto bello lavorare sul paesaggio della Valle abbiamo cercato fin dall'inizio l'abbiamo detto cercare di dare una visione generale perché ci sembrava appunto che ci fossero molte visioni spezzettate a livello comunale e che mancasse un pochino una visione appunto di carattere generale sulla Valle e su quelli che potevano essere le priorità a nostro giudizio ovviamente di intervento partendo anche da evidentemente da quella che è la nostra esperienza abbiamo sicuramente trovato un ottimo gruppo di lavoro secondo noi che ha lavorato molto bene con noi molto affiatato non spetta a me giudicare la qualità del prodotto finito di certo non volevamo o per lo meno io non desideravo ma poi abbiamo condiviso questa cosa avere un abaco o meglio non perché ci sia niente contro questo ma ci sembrava una cosa mastodontica arrivare diciamo ad una sorta di abaco che prendesse in considerazione tutte le possibili particolarità e tutte le possibili declinazioni che si possono incontrare su tutto il territorio della Valle Camonica e saremmo forse stati anche probabilmente fuori ruolo nel senso che in qualche modo noi siamo un ente comprensoriale quindi abbiamo ritenuto che il valore aggiunto del lavoro fatto dalla comunità montana dovesse essere quello di dare una visione comprensoriale quindi di dare una visione di priorità di Valle lasciando poi che alle sensibilità anche in qualche modo delle singole amministrazioni ogni diciamo ci possono essere dei tagli verticali di approfondimento ma in qualche modo noi volevamo dare una visione comprensoriale rispetto alle priorità e rispetto ai problemi della Valle. Io vi ringrazio perché non mi aspettavo una partecipazione così diciamo una sala così assolutamente affollata e ne siamo assolutamente orgogliosi. Dal nostro punto di vista riteniamo che il lavoro sia stato ben fatto. Relativamente al futuro certamente noi siamo ancora qui nel senso noi siamo l'ente territoriale, noi ci siamo, siamo presenti e siamo ben disponibili a lavorare su questi temi anche per il futuro. Non vi nascondo che c'è ovviamente alla fine dell'anno una svolta organizzativa legata in qualche modo al nostro direttore e chiaramente questo non nascondo che questo evidentemente la risoluzione di questo nodo sarà evidentemente uno dei fattori che condizionerà in qualche modo gli sviluppi di tutta la partita. Io con questo credo di avere concluso se non ci sono domande o osservazioni o qualcosa parte vostra.